è game over a termi est vince anno che si ripropone in vetta e forse elimina dalla corsa 3 il terzo pretendente vero stas a vincere è villa reale che si porta in finale playoff o non allearmi comunque a stas una squadra molto forte un gruppo molto unito con quasi tutte le unità una squadra al completo e il macrute passa la vicenda l'elma crudo ora da valeri che caccia con la punta ed è rete e va tutta con il testo rete brunetti che intervento del stiamo difensore sicuramente anche senza il macrute adesso riusciamo diciamo a giocare meglio e avere organizzazione di squadra l'epoca con favorito rinardi riesce a crearsi lo spazio adesso che legittima ancora di più il proprio dominio di queste lecce può dare il via alla festa l'epoca 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 Grazie a tutti